mini charton famoso chitarrista co fondatore dei nazareth è morto all'età di 80 anni a dare la notizia via social è stato il nipote jamie charton ha suonato nei nazareth dal 1968 al 1990 con loro ha registrato classici come broken down angel bad bad boy e molti altri charton ha inoltre lavorato come produttore alla registrazione delle demo dell'album classico dei guns and roses appetite for the extraction